Buongiorno, bentrovati, iniziamo un'altra settimana insieme, buon lunedì 4 di luglio, insieme come sempre con le news e quindi i titoli, le principali notizie marchigiane e non solo che troviamo nei nostri giornali locali e quindi il resto del Carlino e il Corriere Adriatico, ma ovviamente daremo anche uno sguardo a ciò che accade in Italia e nel mondo e parleremo ovviamente anche di meteo per capire effettivamente se questa morsa del caldo ci lascerà nei prossimi giorni e anche per parlare dei risvolti drammatici che questa fase così calda può avere come è avvenuto ieri durante questo dramma della marmolada con questo ghiacciaio che complici anche le alte temperature si è staccato travolgendo diversi escursionisti e quindi i soccorritori hanno parlato addirittura di una carneficina dunque attenzione ovviamente perché è una situazione questa che inficia sulla vita di tutti noi perché ovviamente stiamo tutti quanti affrontando queste alte temperature ma ci sono risvolti veramente anche molto importanti. Ma andiamo con logica e allora andiamo a vedere le principali notizie che troviamo nella nostra rassegna stampa iniziando dal nostro sito come sempre aggiornato www.etvmarche.it in cui troviamo diverse notizie di cronaca e non solo tra cui questa purtroppo una notizia di cronaca un incidente stradale finisce in un diruppo con la macchina muore un 72enne un uomo è morto ieri mattina dopo essere finito fuori strada con la sua auto ad Arquata del Tronto e quindi siamo nell'ascolano diciamo proprio sui Sibillini a cavallo tra i Sibillini e i monti della Laga. Andiamo a vedere con il Corriere Adriatico e quindi andiamo provincia per provincia andiamo a vedere la prima pagina della provincia di Pesaro allora troviamo diciamo una prima pagina dedicata a diversi appuntamenti che tornano perché questa è anche l'estate che di fatto stancisce il ritorno di tante iniziative dopo due anni di Covid-19 e infatti troviamo in primo piano proprio questa news porto la festa ritrovata dopo due anni di stop l'arcivescovo celebra messa e coinvolge la città il luogo dell'accoglienza il comitato sottolinea però le difficoltà per il commercio il turismo e l'impasto dell'ex consorzio e quindi questa è una news che riguarda alcune iniziative altre iniziative corteo pepandolfo e paola bianca la rievocazione dello sfarzo dei malatesta e questo è un'altra iniziativa insomma che torna si parla però anche del problema siccità perché proprio su Pesaro troviamo questa news creare nuovi invasi non è competenza dei singoli comuni quindi bisognerebbe lavorare così per diciamo prepararsi poi ad affrontare stati sempre più calde e siccitose lavorando insomma preparando gli invasi ma come leggiamo insomma dal giornale viene appunto posto l'accento sul fatto che non può essere una competenza dei singoli comuni e poi invece nel taglio di spalla troviamo un punto sull'epidemia da Covid-19 contagi su e questa è una situazione che si verifica nella nostra regione ma è abbastanza generalizzata diciamo in tutta Italia c'è una risalita dei contagi ma per fortuna diciamo non c'è una netta corrispondenza tra questo aumento e poi le ospedalizzazioni però occhi attenti perché ovviamente la situazione non può assolutamente sfuggire di mano. Contagi su fa più danni Omicron 5 che è appunto una sotto variante della diciamo della variante Omicron appunto del coronavirus Vasco Rossi c'era un po' questo diciamo c'era questo timore che effettivamente il gran raggruppamento di persone in occasione del concerto di Vasco Rossi al Palarossini e d'Ancuna 33.000 persone tra l'altro in arrivo da tutta Italia potesse avere diciamo un effetto sulla risalita dei contagi a quanto pare diciamo la curva dei contagi continua a salire ma non sarebbe direttamente attribuibile proprio diciamo a quell'evento appunto del 26 di giugno perché ovviamente sappiamo che nel giro poi di una settimana 10 giorni si ha poi una stima effettivamente diciamo se c'è un evento che può aver determinato diciamo la risalita dei contagi si può insomma analizzare se questo andamento può essere correlato o meno ad un evento se ne è parlato ad esempio all'inizio delle scuole in alcuni casi e a quanto pare no insomma Vasco Rossi non c'entra niente è una fisiologica risalita dei contagi causati da questa sottovariante Omicron 5 che avrebbe appunto una capacità diffusiva molto molto elevata andiamo a vedere in carrellata ora il resto del Carlino che in questo lunedì troviamo in edizione Marche quindi in prima pagina del giornale troviamo un po' tutti i titoli che riguardano tutte le province marchigiane con le principali news e andiamo a vedere proprio quelle che troviamo in taglio alto intanto a macerata task force anti roghi perché questa è un'altra emergenza che si verifica spesso d'estate in particolare in momenti di estrema siccità come adesso e di estremo caldo con diciamo le temperature che possono dare manforte diciamo a roghi che possono essere innescati l'autocombustione ovviamente non esiste però sappiamo che anche da un piccolo rogo se ci sono temperature e vento favorevoli possono poi emergere roghi più più importanti e quindi si prepara una task force anti roghi una seconda squadra dei vigili del fuoco dalla regione 90 mila euro in questo caso siamo a macerata invece per quanto riguarda la cronaca ci spostiamo sulla costa dalla parte sud portorecanati ladri scatenati svaliggiano un furgone e rubano un motorino a civita nova marchi invece una notizia di cronaca ancora accende il fornello incendio fumo e paura in un condominio è successo anche questo in questo weekend andiamo a vedere invece diciamo in taglio centrale troviamo diciamo questa vicenda di Tamberi campione olimpico di salto in alto e Tamberi licenzia il padre allenatore insomma questa è un po' la novità insieme tanti successi e litigi la svolta alla vigilia dei mondiali il papà insomma che l'ha sempre allenato e c'è una sorta tra virgolette di divorzio professionale potremmo chiamarlo così tra il campione e il padre allenatore a Numana invece malore in spiaggia i medici si calano dall'elicottero salvano una ragazza probabilmente chi era al mare ieri in quella zona ha visto in azione l'elicottero giallo l'elicottero Icaro appunto al lavoro proprio per salvare questa ragazza appunto che ha avuto un problema in spiaggia e poi un'altra notizia ad Ancone invece donna di 78 anni faccia a faccia con i ladri dentro casa un'esperienza davvero terribile purtroppo bisogna fare attenzione soprattutto in questa fase in cui compice il caldo ovviamente spesso teniamo le finestre aperte e diciamo c'è chi se ne approfitta per cui bisogna fare molta attenzione invece taglio di spalla c'è una bella news con una bellissima foto di questa signora che ha 112 anni e è la più anziana d'Italia una notizia che arriva da Pesaro e quindi Nina auguri anche da parte nostra Nina questa bella signora è la più grande d'Italia a 112 anni la ricetta tagliatelle insomma il padre Pio a quanto pare vive con la figlia 86 anni e non prende nessuna medicina ogni giorno però segue la messa sul canale del santo di Pietralcina e questa è un po' la ricetta della longevità di nonna Nina andiamo a vedere invece altre news che troviamo in questo caso dalle province di Ascoli Picciano e Fermo a San Benedetto a Guato Shock lungo il litorale turista di 16 anni pestato dal branco e poi ancora a Monte Granaro rapina lampo nel negozio poi la fuga in scooter e poi la notizia che abbiamo visto anche prima sul nostro sito www.tvmarche.it ad Arquata del Tronto infarto alla guida l'auto finisce in una scarpata muore ex alpino di 72 anni e quindi purtroppo c'è stato questo malore e a seguito questo incidente stradale ieri mattina presto diciamo prima delle 11 e poi a Grotta Mare invece un'altra brutta notizia di cronaca diciamo un giallo che si scioglie purtroppo nel peggiore dei modi c'era appunto Orazio Aleo questo signore che era scomparso da 5 giorni erano in corso le ricerche con ovviamente l'apprensione della famiglia e in tanti che lo hanno cercato purtroppo il corpo è stato trovato senza vita questo purtroppo il tragico aggiornamento che arriva anche da Grotta Mare proseguiamo la nostra cavalcata delle news e in questo caso andiamo ad Ancona e come notizia di taglio centrale troviamo quella di cui abbiamo già accennato cioè il campione olimpico Tamberi che licenzia il papà allenatore questo è quello che dice insomma risultati sotto le aspettative cambio strada quindi la decisione del campione diciamo di slegarsi da diciamo questo ruolo del padre che tra l'altro è stato da sempre anche suo allenatore invece in taglio alto siamo proprio ad Ancona centro Ancona città Fontana dei Cavalli sfregiata altra prodezza dei vandali che prendono a bersaglio l'ennesimo luogo simbolo del capoluogo siamo proprio veramente in centro città nella centralissima piazza Roma un simbolo effettivamente della fontana dei cavalli che purtroppo è stata danneggiata spezzata la coda del pesce sulla stadua in alto si allunga la scia dei blitz la sfida non finisce questa volta insomma l'hanno fatta grossa non solo si tratta di imbrattamenti ma addirittura proprio di danneggiamenti su cui purtroppo bisognerà lavorare e si tratta di un monumento di fatto simbolo della città di Ancona invece per le notizie di cronache che troviamo in breve sempre in prima pagina sul Corriere Adriatico ad Ancona coppia denunciata per aver denudato la parcheggiatrice c'è una vicenda che risale a qualche settimana fa e quindi c'era stato un alterco tra questa coppia di persone moglie e marito se non sbaglio e appunto c'era stato anche un contatto fisico dopo brutte parole con questa parcheggiatrice è scattata la denuncia e poi questa vicenda lo stesso a cui abbiamo accennato che troviamo anche sull'arresto del Carlino di questa anziana che durante il blitz con i ladri se li ha visti faccia a faccia e poi invece a Osimo investito un giovane e trovato un chilo di droga c'è l'ipotesi della vendetta e quindi purtroppo succede anche questo un investimento di un giovane e poi da lì è emerso questo chilo di droga e da lì poi l'ipotesi non di un incidente ma di un atto volontario appunto per vendetta un fatto abbastanza grave e poi invece in taglio basso troviamo quest'altra news diciamo che prosegue la scia diciamo delle polemiche delle progettualità però anche dopo la visita del ministro Giovannini il ministro alle infrastrutture proprio la settimana scorsa venerdì scorso a Pesaro si parla insomma di un progetto importante sulla ferrovia sull'arretramento della ferrovia il potenziamento soprattutto delle stazioni di Pesaro e Fano ricordiamo che il ministro è andato in visita proprio a Fano ma si parla anche di bypass per la zona sud diciamo che questa visita appunto era stata preceduta anche dalle polemiche in questo caso di Confindustria Ancona con il presidente Bocchini che aveva detto non possiamo investire solo su un territorio il ministro dica chiaramente cosa vuole fare ad esempio su Bocchini aveva detto il ministro dica quello che vuole fare esattamente su Ancona perché anche Ancona ha bisogno di un suo potenziamento e pare ci sia stata una rassicurazione soprattutto per la Orte Falconara da parte del ministro al numero uno di Confindustria di Ancona però adesso si apre uno scontro invece con l'amministrazione comunale con l'assessora al porto in questo caso al piano strategico della città Ida Simonella che tra l'altro potremmo anche vedere come prossima candidata sindaca il prossimo anno è diciamo uno dei nomi di cui si parla di più in questo momento come diciamo successore della Mancinelli ovviamente sono ipotesi però adesso c'è diciamo questa sorta di scontro sulla ferrovia effettivamente il contrattacco dell'assessore rimettere in discussione tutto sarebbe scelerotico e qui c'è la replica di Ida Simonella a Bocchini qual è la posizione di Confindustria procedere o ricominciare da capo l'assessore sull'arretramento dei binari avanza al motto fatti e punti fermi sul lungomare nord siamo a un passo dal progetto esecutivo rimettere in discussione tutto sarebbe scelerotico questo diciamo è il punto di vista dell'amministrazione comunale di Ancona con l'assessora Simonella e poi invece un'altra news di cronaca lei muore dopo due giorni l'addio anche al marito una coppia diciamo che evidentemente si è promessa amore infinito e quindi viene posto l'accento sul fatto insomma che purtroppo dopo due giorni se ne è andato anche lui purtroppo succede molto spesso sono notizie tristi malinconiche insieme perché insomma segnano un po' quello che è l'amore che in qualche modo tenta di proseguire anche anche dopo la morte in qualche modo ritrovarsi sempre e andiamo ora a vedere Macerata invece perché questo titolo diciamo ci riporta una situazione più generale potremmo dire riguardo il caldo rovente e quindi si parla di bollino rosso ecco Macerata insieme a Fabriano sarà la città più bollente delle marche che oggi perché siamo in pieno bollino rosso per quanto riguarda la nostra regione oggi si sfioreranno i 40 gradi quindi potrebbe essere proprio questa oggi la giornata più calda di questa ondata di calore e Macerata e Fabriano potrebbero essere le città più bollenti delle marche tant'è che sono in allerta i servizi sanitari negli ospedali in aumento gli accessi per malore e ovviamente veniamo dal weekend le spiagge prese d'assalto per trovare un po' di refrigerio proprio per un bagno un tuffo e godersi un po' di quella lieve brezza marina che al mare un po' c'è sempre al mare si boccheggia un pochino meno si sta anche meglio in montagna e quindi attenzione oggi che potranno sfiorarsi anche i 40 gradi e poi andremo anche a vedere meglio appunto le previsioni meteo e anche le prospettive per i prossimi giorni perché questa ondata di calore raggiungerà il picco però nei prossimi giorni dovrebbe scemare e dovremmo assistere ad un calo delle temperature anche abbastanza importante questa notizia riguarda il campione olimpico di salto in alto ne abbiamo parlato e invece qui siamo rispetto al weekend a quest'altra notizia che invece riguarda Castel Sant'Angelo sul Nera più in generale insomma la zona dei Sibillini con questo evento che ogni anno richiama tantissime persone che è lo spettacolo della natura della fioritura della piana di Castelluccio e quindi siamo al confine con l'Umbria e quindi con il comune di Norcia e quest'anno è stato approntato un piano straordinario per evitare diciamo il serpentone di auto peraltro poi parcheggiato lungo la strada che ogni anno insomma creava non pochi problemi di viabilità ma anche di impatto ambientale su una zona che di fatto è pienamente nel parco nazionale di Monti Sibillini il piano di quest'anno prevede che si possa transitare con l'auto ma che non ci si possa fermare per godere della fioritura si può parcheggiare in delle aree sosta identificate e poi da lì si possano prendere dei bus navetta sono state identificate delle aree parcheggio sia da Norcia sia da Castel Sant'Angelo sul Nera sia da Arquata del Tronto però a quanto pare il boom non c'è stato il boom per la fioritura da cabina insomma se questo sistema un po' complesso perché bisogna andare sul sito parchiaperti.it prenotare quindi il posto auto più la navetta pagare anche un contributo ovviamente per il bus navetta questo forse ha scoraggiato i visitatori è anche da dire che con questo caldo magari c'è chi ha preferito magari veramente fare un tuffo al mare piuttosto che andare in montagna dove tra l'altro si sta benissimo a livello di temperature però è allarme siccità anche qui il boom della fioritura è anche concretamente non c'è diciamo che questo è il periodo clou diciamo in cui possiamo vedere la varietà dei colori di questi fiori che crescono spontaneamente tra la lenticchia coltivata il boom non c'è neanche nei colori perché ovviamente l'elasticità ha inciso anche lì diciamo che ci sono delle aree molto molto belle molto colorate molto che danno questo colpo d'occhio meraviglioso però la maggior parte insomma si presenta come più brullo perché ovviamente essendo mancata l'acqua ha inciso anche su questo tipo di fioritura e invece Civita Nova Marche buono il primo weekend di saldi perché si sono partiti anche i saldi estivi lo scorso lo scorso weekend con una prospettiva diciamo di spesa di 85 euro a persona ad esempio nelle marche anche se ovviamente pesano le condizioni complicate di questo momento e quindi le bollette che sono salite alle stelle e tante altre situazioni di difficoltà anche un po' di timore diciamo che siamo tutti un po' con il freno tirato nel far acquisti però a Civita Nova insomma viene fatto un buon bilancio rispetto al primo weekend di saldi riparte lo shopping questo è quello che verge appunto dalla città rivierasca del maceratese e invece qua siamo a Corridonia per un aggiornamento rispetto ad una news di cronaca operaio precipitato adesso la procura tira in ballo l'asur questo è un aggiornamento rispetto a questa news di cronaca andiamo adesso in taglio basso e si parla ancora diciamo di infrastrutture e quindi il dopo Giovannini potremmo dire così dopo la visita del ministro Giovannini delle Marche venerdì scorso Grimaldi nuova ferrovia arretrare tutto il tracciato l'imprenditore dice sarebbe un volano per il turismo dobbiamo fare sinergia per raccogliere i risultati e quindi si anima il dibattito sul futuro del tracciato ferroviario che corre lungo la costa il presidente di Confindustria in questo caso di Macerata Sauro Grimaldi auspica che l'arretramento sia per tutta la ferrovia e verso l'entroterra in questo modo l'infrastruttura sarà un volano per il turismo e il traino per l'economia e quindi si punta tantissimo appunto sull'infrastruttura ferroviaria in maniera variegata insomma su diversi territori anche con scontri come abbiamo visto ad esempio per Ancona allora andiamo a fermo eccoci qua in questo caso si parla ancora proprio di questo bypass niente chiacchiere commercio industria e turismo le associazioni in pressing sull'arretramento della ferrovia il sindaco Frenchellucci e l'esclusione di Porto Sant'Elpidio calma è ancora tutto da fare insomma gli animi si sono surriscaldati in questo già luglio caldissimo dopo la visita del ministro e ora insomma tutti chiedono di capire che cosa succederà anche perché si parla di un investimento importante quello che è stato annunciato dal ministro quasi 2 miliardi di euro e quindi ovviamente ognuno ogni territorio cerca insomma per il suo pezzetto di capire come potrà essere migliorata la situazione che tipo di investimento ci potrà essere che tipo di ricaduta e altre manifestazioni che è remesse che tornano qui siamo nel Fermano alla Falleriense Palio del Male trionfano le balene questo è l'aggiornamento di cronaca e poi invece qua una notizia ancora di cronaca in taglio basso che troviamo non toffatevi dagli scogli bagnino pestato dal branco è successo anche questo siamo a pedaso l'agguato dei ragazzi lontano dalla spiaggia l'aveva richiamato in mare poi la violenza purtroppo questo fenomeno diciamo questo episodio che potremmo far rientrare in quello che ormai abbiamo imparato a definire forse in maniera erronea come il fenomeno delle baby gang e succede insomma anche qui quindi questi ragazzi sono stati redarguiti dal bagnino e poi si sono vendicati potremmo dire così pestandolo seguendolo dopo insomma il lavoro in spiaggia bagnino peraltro giovanissimo che è stato aggredito e picchiato dal branco lontano dalla spiaggia mentre stava tornando a casa poveretto e allora chiudiamo con Ascoli una città sempre più vecchia questo è il titolo che troviamo perché è desolante leggiamo così il quadro fornito dall'ultimo censimento Istat quasi un residente su tre e over 65 la fascia più rappresentata della città è tra i 55 e 59 anni di età crollo delle nascite ma meno fughe quindi diciamo che si tratta di un invecchiamento progressivo della popolazione che non riguarda diciamo solo il cosiddetto spopolamento proprio dal crollo delle nascite questo è quello che emerge rispetto ad Ascoli Piceno poi invece qui abbiamo lo sport in primo piano Ascoli dalla Juve ecco Lungoji spero di averlo letto bene oggi c'è il raduno dei bianconeri e andiamo adesso a vedere invece quest'altra news che è nazionale ma è davvero terribile importante insomma accende diciamo un faro su il problema del momento che riguarda il surriscaldamento del pianeta potremmo chiamarlo così l'innalzamento delle temperature e purtroppo queste tragedie che si verificano al momento il bilancio appunto della tragedia della marmolada è di almeno sei morti e sedici dispersi si poteva evitare però titola appunto il giornale e c'è chi ancora non ci crede rispetto al riscaldamento globale questa è invece la notizia di primo piano che troviamo anche su Repubblica è la stessa la strage del ghiaccio il caldo fa precipitare un blocco gigantesco sulle comitive di alpinisti un boato poi la montagna è caduta sulle persone gli scienziati parlano di clima fuori controllo si cercano 15 dispersi i soccorsi peraltro sono stati ostacolati dal rischio di altri crolli e a proposito di temperature la situazione è questa per quanto riguarda il meteo ancora caronte al massimo forti temporali grazie arrivederci buona giornata